Il 9 ottobre ero in Pirenei, Pirenei a Pù. Ero a Monaco di Baviera. Io nel 63 lavoravo a Parigi. Il 9 ottobre eravamo in Germania, che lavoravamo tutti e due, marito e moglie, e avevamo una bambina piccola che era nata in maggio. 30 minuti col fiato sospeso, 30 minuti di brividi e di lacrime che non si riescono a trattenere. 9 ottobre 1963, il risveglio degli emigranti. È una mostra che fa memoria di un'altra prospettiva del disastro del Vaionta, quella vissuta dagli emigranti del loro ritorno a un mondo che non c'è più. È il mondo che si sono ritrovati quelli che erano di Longarone e delle altre zone attigue e che erano all'estero per lavoro e che hanno saputo in modo frammentario notizie per sentito dire attraverso i canali delle nostre consolati, attraverso quelli che ascoltavano le radio e sono rientrati senza sapere esattamente cosa trovavano. Il nulla, un paesaggio lunare, una spianata di fango, acqua e sassi, una vita, un pezzo di vita troncato in quattro minuti. Il disastro del Vaionta e i suoi effetti, filmati, immagini e giornali d'epoca, testimonianze di superstiti ed emigranti, raccolti con amore, elaborati e disponibili del prossimo 14 ottobre al 30 novembre, weekend compresi, all'interno del Museo Interattivo delle Migrazioni in via Cavour a Belluno. Ti viene anche da piangere nel sentire alcuni testimoni diretti di questa tragedia con pochissime risorse, abbiamo fatto una cosa fai da te, con però dei volontari professionisti che ci hanno permesso anche questa volta di raggiungere l'obiettivo. La mostra evento dell'Associazione Bellunesi nel Mondo è stata finanziata dalla Regione e realizzata in collaborazione con il Comune di Longarone, l'Associazione Vaiont, il futuro della memoria e il Comitato sopravvissuti del Vaiont, ecchi di memoria e della rinascita che a distanza di 60 anni sono una ferita ancora aperta.